La capacità di pianificazione e organizzazione delle vendite. Abbiamo già osservato nella prima sezione che nella costruzione del rapporto fiduciario con il cliente un fattore determinante è la percezione di affidabilità. Il mio cliente mi percepisce affidabile quando realizzo quanto promesso nei tempi e in modi stabiliti. Per aggiungere questo risultato un venditore consulente di fiducia deve necessariamente avere una buona organizzazione ed una buona pianificazione del proprio lavoro. Oggi ci sono strumenti che ci aiutano a pianificare e a organizzare l'attività commerciale, come già citati CRM, ossia strumenti software di organizzazione delle vendite condivisi tra aziende e rete o talvolta utilizzati su iniziativa del singolo venditore. L'introduzione di un CRM può infatti permettere a venditore ed azienda di organizzare e pianificare le visite in maniera efficace ed efficiente, anche in funzione di una corretta gestione del proprio portafoglio complessivo. Qualora non ci sia l'ausilio di tali strumenti, il venditore consulente potrà esercitare al meglio questa attività anche con un semplice foglio elettronico. Il tema sarà trattato in maniera più approfondita nella quinta sezione. Altro strumento fondamentale in un'ottica di pianificazione e organizzazione è la conoscenza dei principi di base del time management. Oggi, epoca in cui il tempo non sembra mai bastare, il venditore, per avere una buona competenza nell'organizzazione e pianificazione del proprio lavoro, dovrà essere abituato a individuare obiettivo di medio termine, trimestre, semestre, anno, focalizzando con chiarezza le proprie priorità, sviluppare un nuovo territorio o un cliente importante, acquisire nuove competenze tecniche, eccetera, costruire progetti che realizzino tali obiettivi, monitorandone costantemente l'avanzamento. Utilizzare con grande precisione la propria agenda, non solo per gli appuntamenti, ma anche per le attività, delle quali sono note scadenza e importanza, ma non il momento migliore in cui realizzarle. Dedicare i primi 10 minuti al mattino a costruire il piano della giornata, unendo progetti, appuntamenti, attività. In tutto ciò, la grande abilità, ahimè rara, sarà di essere certi ogni giorno che le attività strategiche, ma non necessariamente urgenti, avanzino con regolarità verso il loro raggiungimento. Proviamo ancora una volta ad autovalutarci su questo nuovo set di skill di vendita. Pianificazione e organizzazione. 1. Capacità di pianificare le visite. Precisione negli appuntamenti. Autovalutazione. 1 uguale pessimo, 10 uguale ottimo. 2. Capacità di pianificare le visite in relazione agli obiettivi e alla potenzialità. Corretta gestione del proprio portafoglio. Autovalutazione. 1 uguale pessimo, 10 uguale ottimo. 3. Capacità di aggiornamento delle schede clienti. Autovalutazione. 1 uguale pessimo, 10 uguale ottimo. 4. Capacità strategica sui singoli clienti. Definizione di obiettivi di medio termine. Autovalutazione. 1 uguale pessimo, 10 uguale ottimo. 5. Capacità di organizzare la propria giornata lavorativa e il proprio tempo per priorità. Autovalutazione. 1 uguale pessimo, 10 uguale ottimo. Punteggio in percentuale sul massimo totale 50.